Oggi 19 marzo è la festa di San Giuseppe, in questo anno speciale che il Papa ci chiede di dedicare proprio alla sua figura. Quando si restò dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. E' così che termina il Vangelo di oggi ed è qui che si concentra la grandezza di Giuseppe. Egli si fida e affida ciò che l'angelo gli dice in sogno, di non temere e di prendere in sposa Maria. Sicuramente Giuseppe si sarà chiesto tante volte perché proprio a lui, perché questo avvenimento strano e spiegabile proprio nella sua vita. Così come facciamo tante volte noi e ci piangiamo addosso su ciò che avviene ma Giuseppe oggi ci dà un disegnamento importante di spostare la nostra intenzione dal perché al come affrontare questo avvenimento. Ed è così che anche noi oggi vogliamo restarci dal sonno e come Giuseppe guardare gli avvenimenti della nostra vita con occhi rinnovati.